Torniamo in studio con il nostro classico appuntamento sui chiarimenti normativi insieme al nostro avvocato Claudio Venghi. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. È stata una settimana questa dedicata, possiamo dirlo, al decreto Mille Proroghe, che ha avuto appunto il via libera definitivo al Senato. E io su questo avvocato mi voglio concentrare con lei questa sera, perché ci sono tante novità per le imprese, per i cittadini, che necessitano ovviamente dei chiarimenti. Quindi io le chiedo la carrellata con le principali novità. Sì, ce ne sono molte, ne citiamo alcune, proprio rilevanti per le imprese e per i cittadini. Allora, la prima, la proroga di sei mesi dell'utilizzo del bonus vacanze. Ricordiamo il bonus vacanze, che è questa possibilità di ottenere uno sconto sino a 150 euro per una persona, 300 euro per due persone e 500 dalle tre persone in su, per i soggiorni appunto turistici, presso le strutture aderenti, quindi non tutte le strutture ma quelle aderenti e ovviamente compatibilmente con la situazione epidemiologica e di spostamento, diciamo. La proroga però è importante perché è al 31-12-2021, mentre inizialmente era al 30 giugno 2021, quindi abbiamo ancora altri sei mesi per poter comunque usufruire di questo bonus vacanze. L'altro elemento è quello dei requisiti, cioè i redditi medio-bassi, cioè l'ISEE inferiore a 40.000 euro. Comunque ecco, questa proroga è importante per il comparto turistico, è un altro elemento, diciamo, a favore dello sviluppo e della ripresa turistica. Poi abbiamo la conferma del blocco degli sfratti, non tanto l'azione di sfratto quanto l'esecuzione per gli sfratti di morosità ed è confermato al 30 giugno 2021. Anche qui ci sono vari requisiti, varie situazioni che poi andranno analizzate caso per caso, ma è confermata appunto la proroga del blocco degli sfratti al 30 giugno 2021. E poi la possibilità di beneficiare dello smart working anche nel privato sino al 30 aprile 2021, anche in deroga attraverso gli accordi individuali, cioè ai contratti di lavoro in essere. Quindi, diciamo, una serie di misure che sostanzialmente confermano quanto previsto nel decreto. Ricordiamo che il decreto 1000 proroga è di fine dicembre e qui c'è stata la conversione in legge. Quindi diventa definitivo, diventano definitive queste misure per tutto il 2021 e quindi all'interno abbiamo una serie di opzioni, di opportunità per le imprese e per le famiglie che caso per caso possono essere appunto attuate e sviscerate. Perfetto, Avvocato. Io però le faccio una domanda relativa appunto al passaggio al mercato libero dell'energia. Perché è contenuto anche questo nel decreto e noi ne avevamo parlato anche le settimane scorse con il Cempi. Sì, allora qui c'è stata una proroga dell'entrata in vigore del mercato libero, cioè dell'eliminazione del mercato tutelato, al 1 gennaio 2023, mentre prima era al 2022. È molto importante perché il passaggio sostanzialmente liberalizza, cioè non è più vincolato alla linea del mercato tutelato per chi ha questo tipo di contratti stabilito da Arera, che è l'autority di riferimento e dà la possibilità alle imprese e alle famiglie appunto di rivolgersi a qualsiasi operatore rispetto al mercato libero. Segnalo che per esempio il lavoro fatto da Cempi, che è questo consorzio che è appunto legato a Confartigianato, di cui troviamo tutto sul sito di Confartigianato e sul sito di Cempi, dà una consulenza importante alle aziende. Pensiamo che i costi dell'energia sono costi indiretti delle aziende molto molto rilevanti, molto importanti e anche delle famiglie. Quindi l'invito è rivolgersi a questi operatori specializzati, in particolare a Cempi, che ha una preparazione importante sulla consiglio, sulla consulenza, sul come fare, anche rispetto a questo passaggio, mercato tutelato, mercato libero.